Uccisa brutalmente a colpi d'arma da fuoco in Messico insieme al compagno. Così è morta Pamela Codardini, 35enne originaria di Favaro Veneto, mamma di due bambini. L'omicidio è avvenuto il 27 gennaio nello stato di Uajaja, dove la ragazza viveva da anni. La coppia è stata affreddata a colpi d'arma da fuoco nell'attività commerciale che gestivano insieme, specializzata nella vendita di tabacchi. Dalle prime testimonianze sembra che l'obiettivo del commando fosse proprio il compagno, che secondo quanto riportato dai media locali sembra fosse uno dei fedelissimi del capo del cartello Los Medina. I killer l'hanno giustiziato a bruciapelo, poi si sono accorti che nel retro c'era anche Pamela e hanno ucciso anche lei. Un'azione militare, rapida e cruenta. La notizia è arrivata ai familiari il giorno seguente. È stato il fratello di lei, Manuel, a rivolgersi all'unità di crisi della Farnesina, che ha confermato la tragica notizia. I figli di Pamela erano stati affidati alla custodia del padre, ex compagno della ragazza. La vita della 35enne era già stata segnata da un fatto cruento avvenuto nel 2013, sempre in Messico. Il suo primo marito, Alex Bertoli Cuoco, goriziano di 28 anni, fu brutalmente ucciso. La coppia era andata lì per aprire un locale, la dolce vita, come raccontò la mamma di Pamela ai nostri microfoni. Avevano trovato questo locale da gestire e avevano coronato il loro sogno, che è naturalmente svanito. A quel punto la Pamela ha scritto una cosa che penso farebbe riaprividire chiunque. Lo raggiungo? Allora la mamma, preoccupata per le sorti di Pamela, sperava di riportarla a casa, ma non ci riuscì. Quando arrivo là spero di riuscire a portarli a casa tutti e due. Sconvolta la comunità di Favaro, che ancora una volta viene colpita da una tragedia. Voglio innanzitutto mandare un messaggio di vicinanza, solidarietà e di condoglianze per quello che possono valere alla famiglia. E dire che siamo a disposizione come istituzione qualora avessero bisogno. Grazie. Grazie. Grazie.